che bella invasione di penne oggi faccio un video che ha avuto diciamo molto successo e lo aggiorno rispetto al 2021 che ormai sta finendo ho provato molte penne e sto parlando delle stilografiche entro i 50 euro c'è una scelta vastissima e non chiamate le economiche perché sono delle penne che scrivono benissimo le vediamo un po in carrellata magari salendo col prezzo volta per volta partiamo dalla più nota l'inossidabile preppi pochi euro per scrivere davvero bene sempre tre gradazioni una penna che non ha paura di niente esiste anche una versione più recente che costa qualcosina in più ma che diventa un po più pretenziosa diventa un po meno forse economica con qualche scritta un po meno in evidenza dall'altra parte se da una parte c'è platinum dall'altra abbiamo pilot la plumix o pluminix veramente una penna una penna da avere dico io perché ha anche un pennino questo m in particolare che è un pennino veramente molto valido strizza l'occhio al calligrafico e un pennino praticamente un italico una penna leggera con un materiale devo dire migliore al tatto rispetto a quello della platinum inoltre è vero che più piccola ma ha un'impugnatura abbastanza ergonomica ed è un po più colorata si vabbè costa un po di più evidentemente e poi schneider una bella scoperta quest'anno una schneider che nella versione ice questa qui è quella un po più pretenziosa ma sono penne che si trovano anche a partire da 4 5 euro e fanno il loro lavoro sono belle scrivono bene certo il pennino a una gradazione unica non è lo stesso che posso scegliere per esempio su platinum oppure sulla pilot che vi ho mostrato poc'anzi ma scrive bene non serve altro si impugna molto bene questa impugnatura direi quasi da definirei gommosa ha un ottimo grip la penna leggera anche un suo design se vi interessa approfondire vi rimando alla prova poi ci sono le parker quelle un po economiche che insomma devo dire che sono belle perché hanno il loro marchio parker insomma ha fatto la storia della penna stilografica hanno dei materiali effettivamente ben lavorati ben assemblati però a volte capita anche l'esemplare che non sempre scrive come ci si aspetterebbe ecco quindi il consiglio è provate la prima di acquistarla troviamo già delle parti in metallo che non abbiamo visto su altre penne una clip che senza dubbio il fermaglio è più bello fra quelle che abbiamo visto fino adesso pelican pelican per tutti i prezzi da twist ma senza dubbio per cominciare a scrivere va benissimo si adatta bene anche alle mani dei dei bambini dei ragazzi insomma non ha paura di niente ed ha una forma inconfondibile e poi c'è una tra le mie preferite la perché o di caveco a un pennino il pennino calligrafico che loro chiamano lo stab 1 1 1 5 1 e 9 veramente ottimi validissimi mi piace un sacco ci sono le versioni un po più colorate di questa che ha scelto marco chiari ma soprattutto è questo che conquista per regolarità affidabilità e soprattutto piacere di scrittura chi ha voglia di cimentarsi anche un po in qualcosa di meno ordinario la griffix pelican si una penna interessante perché aiuta effettivamente a metterla anche nelle mani di bambini che hanno qualche esigenza in più hanno necessitano di una maggiore attenzione nell'approccio della scrittura quindi ben venga anche un prodotto come questo al pari della lami abc può piacere non piacere a me piace mi piace perché innanzitutto a un pennino a quello che comprate che un pennino per principianti però funziona benissimo rotondo aiuta molto anche anche la scrittura mancina proprio per questa sua rotondità sebbene si possa ordinare con il pennino specifico per la scrittura sinistro orsa qua il legno e beh il legno è un bel ricordo dei giocattoli forse chi li ha avuti come me nell'infanzia questo rosso la rende molto pinocchiesca perché mi ricorda molto il burattino di collodi l'accostamento del legno con questo rosso bella l'impugnatura scrive bene e siamo ancora nell'ambito dei 10 15 euro dove si pescano dei prodotti eccellenti così come la monteverde monza una bella penna stilografica che oltre alla sua diciamo qualità così di scrittura ci mette a disposizione anche la completezza di un converter quindi funziona sia a cartucce che a converter e per la prima volta su penne di questo ordine troviamo compreso anche il converter ah sì ho lasciato fuori la cacuno come si fa a dimenticarsi di questa la penna col pennino che sorride sono dei best seller sono quelle penne che ci danno anche la voglia magari di spendere i 10 15 euro ma ci portiamo a casa qualcosa di veramente sorprendente perché scrive bene e poi non non adottiamo magari o non siamo costretti ad adottare quei riguardi che una penna un po più rifinita almeno a me capita così l'appoggio sulla scrivania senza pensarci troppo la penna più importante e aspetta che si rovina la metto l'appoggio qua no lì non ci va e poi si finisce per non usarla molto intrigante la proposta di noodler con le sue hub servono più soldi invece per comprarsi una conrad siamo già nella soglia dei 20 euro sapete che hanno questi pennini flessibili elastici chiamateli come volete anche in questo caso all'interno se riesco ad aprirla si c'è un converter nel senso che funziona con questo tipo di innesco e di alimentazione la penna è valida certo senza aspettarsi chissà che cosa ma può essere una valida opportunità per sperimentare un tratto un po flessibile un po elastico convivendo con qualche piccolo difetto che speriamo possa venire appianato poi c'è lei inossidabile intramontabile caveco sport aciderbola quante quante ne vendono quante ne hanno vendute quanto è bella e quanto è pratica nelle sue versioni in resina come questa ma mettendoci qualche soldino in più si arriva a quelle in alluminio che non è sempre detto che sia migliore come qualità di scrittura perché comunque questa così leggera è bella e funziona bene quelle in alluminio senza dubbio consente di avere anche delle rifiniture diverse e magari anche neanche delle tonalità che sulla plastica l'ultima uscita comunque la olive veramente molto bella non si riescono ad ottenere e così come tra alluminio e resina vi ho saltato la safari parlando delle penne economiche poc'anzi per parlarvi della safari ma nel modello a l star quindi lo stesso identico modello ma in alluminio un modello che devo ammettere io preferisco rispetto alla resina perché la sento più penna me la sento meglio in mano anche qui una varietà di pennini straordinaria perché consiglio una penna così perché con 6 7 euro potete cambiare il pennino quando volete e magari passare da un extra fine a un medio ad un brodo oppure un calligrafico come questo sì e poi sono rifinite molto bene un po come tutte le tedesche da questo prezzo ci spostiamo con altre due penne interessantissime quindi lasciamo l'europa e torniamo nell'oriente sailor sailor profit junior credo che me l'abbiate sentita decantare a sufficienza questa penna già perché in poco più di 20 euro c'è una qualità sailor non c'è il pennino in oro ma poco importa scrive benissimo questo pennino gradazione unica quindi deve accontentare tutti fm ed infatti è proprio così è un fine medio che scrive dappertutto su qualsiasi tipo di carta molto rigoroso preciso mi ha conquistato e altrettanto bisogna dire della pilot la 78 g più una penna che comincia ad avere qualche così qualche velleità anche estetica come vedete c'è questa placatura ci sono queste queste due finte verette disegnate in oro insomma vuole così mostrarsi anche un pochettino bella all'occhio ma a noi interessa come per sailor ci interessa questo il pennino in particolare mi piacciono i due pennini guarda caso agli estremi l'extrafine che il classico capello d'angelo come si dice e questo b che ormai avete imparato a conoscere dai miei video non è un brodo tutt'altro è un pennino italico è un pennino di quelli tronchi vi verrebbe da dire da quanto è tagliente ma da quanto anche è bello scriverci sempre in quell'area ma stiamo toccando ormai 30 euro mi viene in mente l'ultima arrivata la swipe di twisby una penna che è anche molto elegante vediamo se riesco a tirarla fuori ma a tirarla fuori ce la faccio e rimetterla dentro che più preoccupante una penna che comincia a essere anche una bella penna tra l'altro perché la resina in tradizione twisby e di qualità toccandola lascia indietro tutte le altre che vi ho presentato fino adesso il pennino è un pennino garantito perché quello della di altre twisby che sono assolutamente una garanzia scrivono bene e non hanno problemi né di sorta di di flusso eccetera la novità della sua ip che per inciso significa proprio scorrevole e questa cartuccia che come vedete trattenuta da una molla insomma giusto per parlarne un po ecco non è che fosse così essenziale ma funziona sia a cartuccia che a converter e per twisby e questa è una bella novità la clip satinata è veramente una genialata su questa resina fumè a me piace molto ma se avete qualche soldino in più da spendere allora potete orientarvi anche sulla sorellona la twisby eco e qui devo dire che questa è una penna che difficilmente non è inchiostrata nella mia scrivania è funzionale è bella e bilanciatissima trovo che abbia una lunghezza anche giusta per per quel che mi serve o perlomeno per le mie mani ci sono tanti colori c'è anche la versione t una penna che se non sbaglio se ricordo male parte da poco più dei 30 proprio superata la soglia dei 30 arriva anche a 38 39 se scegliete delle finiture un pochettino più frufru come si potrebbe dire la caveco student ce l'ho perché beh questa è la serie jazz bellissima ma la caveco student il modello base si trova sempre in questo range tra i 30 e 40 euro avete una bellissima penna funzionale con un pennino che vi farà nascere il sorriso ogni volta che lo utilizzate con qualche soldino in più ma sempre entro la cifra della dei 50 euro noi siamo tra i 40 e 50 vi portate a casa questa edizione la jazz blues rock ce n'è per tutti i gusti e qui cominciamo a entrare effettivamente nelle penne di pregio nelle penne che hanno anche qualcosa in più da dire da mettere in campo e non solo la qualità del pennino si percepisce subito la qualità dei materiali queste finiture che cominciano ad essere in metallo con una loro lavorazione con incisione senza dubbio sono tutte cose che si pagano così come questa impugnatura che non sono un amante delle impugnatura in metallo ma vi sfido a provarla a me piace molto e poi la penne così ben bilanciata che insomma difficile non utilizzarla e l'ultima scoperta che se riuscite ad avere un po di sconto diciamo che sta nei 50 euro anche se nel listino lo scavalca di poco e la lami aion ve ne voglio parlare come ve ne ho parlato nella video recensione perché perché vale la pena questa è una dark green è un'edizione speciale per quello costa un pochettino di più però innanzitutto un corpo in alluminio veramente fatto bene piacevole al tatto vabbè la colorazione piace non piace abbiamo fermaglio e metallo insomma una qualità di struttura decisamente importante anche perché la penna in alluminio e vale il peso dell'alluminio sono 33 grammi ma quello che colpisce di questa penna o perlomeno mi ha colpito la finitura dell'impugnatura che ha una è un satinato molto gradevole ma anche si fa impugnare bene saldo e poi sapete che c'è un pennino un pennino molto particolare unico in casa lami un pennino che scrive veramente bene se mi avessero detto che un pennino premium ci avrei creduto assolutamente perché la qualità è notevolmente superiore notevolmente superiore al pennino base magari lo limitiamo alle gradazioni fm lasciando fuori un po l'extra fine al broad dove si perde questo questa caratteristica di finitura ulteriormente particolareggiata guardate anche la sezione a parte il converter che quello non sempre lo trovate nella penna ma guardate la sezione del metallo questa è una penna che è stata con me un po di tempo da quando è uscita e credo che non ci rinuncerò perché mi è piaciuta cari amici a voi la scelta come sempre ma il concetto che spero possa passare anche questa volta è uno che sia che spendiamo 10 euro o che ne spendiamo 50 o 500 la qualità della scrittura e insomma non va di pari passo col prezzo perché ci sono penne entro i 15 euro che io utilizzo quotidianamente e sono fantastiche volete qualcosa di un po più rifinito si sale un po di prezzo ma entro questa soglia c'è tutta la scrittura stilografica di base e di piacevolezza di utilità che si possa ritrovare quando poi parliamo di penne un po più ricercate ma lo facciamo in un altro video ciao a tutti